E' stata ritrovata in via dei Funari la panchina rossa sparita da un paio di giorni da Piazza Martiri a Teramo. Era appoggiata al muro del vecchio stadio comunale non molto distante da dove era stata collocata. Una panchina fortemente voluta dalla FNPCISL, la Federazione dei Pensionati, quali immagini del percorso di sensibilizzazione per giungere all'eliminazione della violenza contro le donne. Questo non toglie l'amarezza del gesto, perché non tanto la panchina in quanto tale, ma per quello che la panchina rappresenta. Per noi è un simbolo forte nei confronti di un problema serio che abbiamo, molto grave, che è quello dei femminicidi e della violenza in genere sulle donne. E quindi aver collocato quella panchina lì, in quel punto della città dove la gente la frequenta, e quindi poteva essere anche un invito a sedersi per riflettere sul problema che volevamo rappresentare. Il fatto stesso che la panchina scompare, questo ci aveva molto rattestato. Soprattutto una volta che avevamo verificato col comune che non erano stati loro a spostarla, quindi si è pensato subito a un atto vandalico, e quindi ritenevamo che fosse ancora più grave. L'abbiamo ritrovata, adesso pensiamo, la ricollochiamo sicuramente, ma l'avremmo fatto lo stesso, anche se non l'avessimo ritrovata avremmo provveduto di nuovo a ricollocare la panchina. Della scomparsa si erano accorti alcuni iscritti della sigla sindacale durante la loro passeggiata mattutina, e avevano notato che la panchina rossa non era più al suo posto e subito si erano rivolti al sindacato. La panchina era stata già spostata dalla sua collocazione originaria durante il periodo natalizio per lasciare spazio agli stand del mercatino dei prodotti tipici, e accostata alla scalinata del Duomo in attesa di essere riposizionata dove era in partenza. Bisognerà capire anche come la panchina è finita qui e ovviamente chiederete al Comune di riposizionarla? Questo sì, come ci è arrivata non lo sappiamo, non credo che qualcuno ce lo dirà. Chiediamo al Comune che la ricollichi lì dove era, in modo un po' più stabile. Altrimenti lo facciamo anche noi, non è questo il problema.